Palinsesti autunno 2018, arriva Temptation Island VIP Novità in arrivo a settembre su Canale 5, ledizione VIP di Temptation Island Quando arriva l'estate, come ogni anno tutti i programmi televisivi più seguiti chiudono i battenti per ripartire a settembre con una nuova stagione. Si fermano per esempio per la pausa estiva, striscia la notizia, Verissimo e Uomini e Donne. Gli amanti di questo programma però non vedono l'ora che arrivi l'estate perché va in onda un programma amatissimo da molti, l'unico che inizia ad estate inoltrata, precisamente a luglio. Si tratta di Temptation Island, ideato sempre da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Il format mette alla prova coppie di fidanzati e alcune sono quelle nate proprio ad Uomini e Donne. Edizione VIP a settembre con Cecilia e Ignazio. Temptation Island, va in onda in un periodo particolare, nel bel mezzo della stagione estiva eppure, tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori che vogliono scoprire quale amore resisterà alle tentazioni, soprattutto quello delle coppie nate durante l'anno ad Uomini e Donne. Proprio per questo la Mediaset, visto il grande successo avrebbe pensato di realizzare la versione VIP del reality delle coppie. Temptation Island VIP che andrebbe in onda secondo le prime indiscrezioni a settembre. Stesso format, stesse regole. A cambiare sono le coppie di fidanzati che saranno formate da personaggi molto conosciuti. Chi lo condurrà? Anche qui circolano delle voci. A condurre ci sarebbe non più Filippo Bisciglia ma Simona Ventura che come si è già visto piace molto a Maria De Filippi. Ecco una delle probabili coppie che potrebbe mettere alla prova l'amore. Si tratta di una coppia che ha fatto davvero molto discutere. Cecilia Rodriguez, sorella della più nota Belen Rodriguez e Ignazio Moser, figlio del campione di ciclismo Francesco Moser. Altri due nomi che circolano sarebbero quelli di Francesco Monte e Paola Di Benedetto, anche se pare che si siano già lasciati. Queste sono le prime indiscrezioni che circolano. Ancora non si conoscono i nomi delle altre coppie, così come non si conoscono i tentatori e le tentatrici. Anche loro saranno persone conosciute che fanno già parte del mondo dello spettacolo? Non resta che aspettare la fine dell'estate per saperne di più, quando ci sarà come sempre la presentazione dei nuovi palinsesti autunnali Mediaset. Nel frattempo però per tutti gli appassionati andrà come sempre in onda a luglio Temptation Island nella versione originale. Nel frattempo però per gli appassionati inccpisciati, come non si conoscono i nostri spettacolo? Non si conoscono i nostri spettacoli? No! Grazie.